L'iniziativa proposta per New Deal for Europe è positiva sotto molti punti di vista. C'è una ragione fondamentale che vuole dire subito per sottoscrivere questa iniziativa. È la cosa giusta da fare per invertire la crisi, per rilanciare la possibilità di economia e lavoro. Quindi è la cosa giusta da sottoscrivere.